Ciao, non è inutile! E' quello su che è tosto! E' quello che ho fatto! E' un altro video che Looks like and film Da trento ridiale! Da trento ridiale! e anche la ragione di merda ma adesso c'è anche tutta la pressione di credo no no basta basta ha già dato i legni secchi basta e mo